buongiorno eccoci al nostro appuntamento del santo del giorno ma in questi prossimi giorni oggi venerdì e sabato non abbiamo il santo da onorare ma abbiamo invece i grandi tre giorni della settimana santa della settimana autentica e allora vorrei in questi tre giorni dare alcune indicazioni che ci aiutino a vivere bene questi giorni prima di tutto oggi arriviamo un po al cuore del mistero pasquale con questi tre giorni tre giorni che sono da sempre come avete in mente il roveto ardente del sinai ecco mosè si accosta per conoscere il signore e dio gli dice togliti anche i sandali sei su un terreno santo ecco noi entriamo in un terreno santo in questi giorni quindi oggi in particolare attraverso il mistero eucaristico siamo invitati a metterci a tavola con gesù ed è molto bello essere tra coloro che ricevono il dono più grande che è il signore stesso il suo corpo e il suo sangue allora non si tratta di metterci qui e dire facciamo finta di ricordarci che cosa ha fatto gesù ma vivere in profondità questo mistero è una qualche cosa che si ripete continuamente anche oggi oggi in ogni celebrazione eucaristica noi siamo e non potremo mai essere spettatori non siamo e non potriamo mai essere spettatori vi ricordate una volta quando la gente diceva vado a sentir messa non vai a sentir messa come fai a sentire messa una volta addirittura gli uomini entravano in chiesa dopo che il prete aveva scoperchiato il calice perché il primo pezzo quello della parola di dio non interessava a nessuno ora è vero che era una una messa fatta in latino quindi nessuno capiva niente però quel momento lì è il momento in cui noi viviamo in perfetta sintonia con gesù il suo sacrificio di salvezza ma se noi siamo i protagonisti se i nomi dei dodici dobbiamo riconoscere i nostri nomi allora lì ci sono i nostri tradimenti ci sono c'è il tradimento dell'apostolo giuda ci sono i nostri rinnegamenti c'è il rinnegamento di pietro ci sono le nostre paure le nostre fughe quando tutti i discepoli scappano e tutti abbandonatolo fuggirono allora nei gesti e nelle parole di gesù perché gesù ha pronunciato quella sera noi ci ricordiamo che di lì a poco accadrà sul calvario quello che noi non avremmo mai immaginato non un'esecuzione non l'uccisione di una persona morte non la condanna morte ma il dono più grande di gesù per noi ci ha regalato se stesso ci ha dato la sua vita e l'ha data per tutti è il passo decisivo che il signore compie ma si gioca nella lotta e nell'angoscia perché compiere la volontà del padre che vuol dire amare è una cosa importante ma è una cosa difficile è una cosa che ci fa soffrire è una cosa che ci fa lottare così gesù accetta di bere il calice della sua passione accetta di entrare nella volontà del padre lottando contro l'angoscia e la tristezza noi sappiamo come gesù dice certe parole che a volte ci mettono in difficoltà padre se è possibile passi da me questo calice noi lo sappiamo che gesù era venuto per questo era venuto per darci la sua vita questo era il suo calice allora lui non chiede che passi questa cosa cosa deve passare l'amarezza nel vedere che tutti noi non capiamo nulla non riusciamo a capire che quello che sta facendo un atto di amore allora tutti noi nei momenti difficili e drammatici della nostra vita siamo tentati di scappare come ha fatto gli apostoli come facciamo noi per questo possiamo sentire la vicinanza del signore lui ci capisce sa la fatica che ha fatto sa la fatica che hanno fatto i suoi discepoli e allora la cosa che gesù ci fa vedere questa sera nell'ultima cena è questa bisogna imparare ad abbandonarsi nelle mani del padre bisogna imparare ad affidarsi e poi questa è la giornata dei preti voi sapete che al mattino del giovedì santo l'arcivescovo convoca tutti i preti della diocesi per la messa crismale dove lancia un messaggio per loro ho visto che è arrivato adesso su questa su questa indicazione della chiesa di milano poi andrò a leggerlo con calma allora io vi chiedo quest'oggi che possiate partecipare alla messa in via streaming stasera che non possiate vivere questo momento di preghiera comunitaria insieme a tanti altri che siate costretti a stare in casa e non abbiate nulla per vivere un momento comunitario di ascolto e di riflessione io vi prego fate una preghiera per noi preti abbiamo davvero bisogno abbiamo bisogno di essere sostenuti ma non perché c'è questa situazione perché il prete è colui che sta in piedi per la forza della preghiera della sua gente ora io vi posso dire che ho l'esperienza diretta di come voi che pregate per me mi sostenete mi sostenete quando per esempio voi sapete faccio tante benedizioni prima che iniziasse questo momento così complicato però anche adesso in questi giorni di silenzio di solitudine tante volte di paura io so di essere sostenuto dalla vostra preghiera ecco oggi è il giorno giusto pregate per noi preti buona giornata